Musica Buonasera, benvenuti a Speciale Elezioni. Quella di stasera è la prima tribuna elettorale che vede il confronto tra i quattro candidati alla presidenza della Regione Abruzzo. Uno di loro guiderà questa Regione l'11 di febbraio, dopo che si saranno svolte appunto le regionali e si confrontano nei nostri studi per descrivere le loro sfide programmatiche, far conoscere meglio se stessi e confrontarsi appunto sui temi principali della vita e del futuro dell'Abruzzo. In questa prima tribuna elettorale mi aiuterà il mio compagno di viaggi nelle tribune, nelle trasmissioni di approfondimento che il Rete 8 realizza insieme al Quotidiano e il Centro, il vice caporedattore del Quotidiano e l'Abruzzo, Lorenzo Colantonio. Buonasera, Lorenzo. Buonasera, Carmi. Benvenuto, bentornato qui a Rete 8. Eccoli, li vedete tutti e quattro nel campo largo i candidati alla presidenza della Regione. Marsilio, Legnini, Marcozzi, Flaiani, ma li conosceremo più da vicino già nella prima domanda. Abbiamo effettuato un sorteggio preliminare che consente di ruotare anche l'ordine delle risposte. Il primo a rispondere alla domanda che sarà la stessa e avrà tre minuti di tempo per rispondere da questo sorteggio è Marco Marsilio. Allora, a lui la prima domanda la faccio io, una domanda di un'assoluta difficoltà. Saranno tutte domande, insomma, abbastanza, se volete, anche un po' banali, in qualche modo, ma è un po' la par condicio ci impone questo. Che è quella appunto di presentare la propria candidatura, in qualche modo, perché si vota per le coalizioni, per le liste, ma si vota per un progetto politico, ma si vota anche per la persona. Allora, chi è Marco Marsilio? Si presenti agli elettori abruzzesi. Prego, tre minuti. Buonasera e grazie di questa opportunità. Marco Marsilio è il figlio di una famiglia di abruzzesi che non ha trovato lavoro in Abruzzo a suo tempo e per questa ragione si è trasferito altrove per lavorare. È una, come dire, una esperienza comune praticamente a tutte le famiglie abruzzesi, di spargere i propri cari, i propri parenti in tutti i continenti, il fratello di mia madre è in Australia, i fratelli dei miei nonni in America, il fratello di mio padre ha lavorato in Venezuela prima di tornare. E questo tema del ritorno è un tema caro agli abruzzesi, che sentono forti le radici come le sento forti anche io, anche se sono nato e vissuto poco lontano da qui, a Roma, dove ho fatto la mia esperienza di vita, di lavoro, di parlamentare, di politico. Questa esperienza la voglio mettere al servizio della mia terra. I partiti della coalizione di centrodestra, che mi hanno dato l'onore e il privilegio di poter correre questa sfida e di poter guidare la regione Abruzzo, hanno pensato appunto anche a questo, a questa esperienza da parlamentare nazionale che può essere messa al servizio come un valore aggiunto per la nostra regione. Una regione che ha subito, al contrario, in questi anni, una marginalizzazione nello scenario politico nazionale. È una regione che viene tagliata da tutti gli assi di sviluppo. È una regione che, se pensiamo all'asse nord-sud, è come se l'Italia finisse lungo la costa triatica, nelle Marche, dove c'è l'autorità portuale ad Ancona, dove finisce la terza corsia dell'autostrada, dove il treno dell'alta velocità non passa, perché se bisogna andare da Trieste, Venezia fino a Bari, le ferrovie dello Stato scelgono di passare per Bologna, Roma, Napoli e poi da Napoli a Bari si rifà l'alta velocità. Quindi l'Abruzzo è saltato a pieppari, così come è saltato a pieppari nell'asse di sviluppo di Reno Adriatico. Quattro ore e mezza di treno per arrivare da Roma a Pescara. Sono solo alcuni esempi e sono esempi che dimostrano come c'è bisogno di una diversa attenzione per una regione che invece fino agli anni 70-80 era una regione che cresceva, era il motore dello sviluppo del meridione. Era la regione forse l'unica che tra le regioni del sud, libera peraltro da mafie e camorre, riusciva a creare sviluppo industriale, ad attrarre gli investimenti, a respirare, a tornare ad essere una regione che concorreva insieme al resto dell'Italia con orgoglio e fierezza, con il duro lavoro al benessere nazionale. Oggi questo benessere, questa sensazione, questa prospettiva per il futuro non c'è ed è la preoccupazione che viviamo ancora oggi perché l'esperienza dell'emigrazione continuano a farla troppi i nostri giovani. La nostra regione si sta spopolando, subisce un destino di desertificazione industriale. E' una regione dove bisogna quindi cambiare passo, cambiare classe dirigente e portare di nuovo l'Abruzzo al centro delle strategie nazionali. E per questa ragione noi siamo in campo e vogliamo offrire il nostro modesto contributo. Bene, grazie Marsilio. Il numero due nell'estrazione, appunto nel rispondere a questa prima domanda, è Stefano Flaiani, candidato presidente, sostenuto dalla lista di Casa Pound. Flaiani. Buonasera, buonasera ai spettatori. Io mi presento, ho 47 anni, esercito adesso la professione, da qualche anno diciamo la professione di avvocato, sono nato in un'azienda agricola e solo che dopo ho dovuto chiudere questa azienda agricola per oltre 12-16 esproprio per pubblica utilità, ho iniziato a fare una politica attiva, differenziando da quella passiva che è solo volantinaggio, manifesti, diciamo relativamente tardi perché per tanti anni ho fatto un servizio educativo in un'associazione cattolica e non ritenevo che era coerente, fosse coerente esercitare, cioè avere una figura di educatore con l'esercizio di una politica attiva e quindi partitica di colore. Dopo vari lavori che ho fatto e l'ennesimo esproprio mi sono dovuto rimettere a studiare, mi sono voluto rimettere a studiare, a 30 anni circa mi sono rimesso sui libri. Ho iniziato, come dicevo prima, a fare questa politica attiva dopo aver lasciato questo servizio educativo e cercavo una compagine politica che più corrispondesse a quello che avevo in mente io di poter fare e lasciare qualcosa di mio in questa povera terra maltrattata e abbandonata. Ho avuto la fortuna e sfortuna, se vogliamo andare a vedere, di partecipare a diverse compagini politiche e tutte quante con bravissime persone, bellissime idee, il problema principale era che mancava quello che cercavo io, cioè il pensiero bellissimo espresso, ma da quello non c'era poi azione sul territorio. Ho conosciuto Casa Pound in ritardo perché anche io mi fidavo dei titoloni dei giornali, che erano tutti errati perché i titoloni dei giornali fecevano passare Casa Pound come una partecipazione a risse quando invece era solo che Casa Pound si difendeva il proprio diritto di fare un banchetto formalmente e regolarmente autorizzato. Un esempio accoltante fu a Giulianova, dove 20 persone passa, hanno aggredito 5 ragazzi, tra cui 3 ragazze, per non farci esercitare il nostro giusto politico. Noi invece combattiamo per esercitare le nostre idee, combattiamo per difendere i diritti e gli interessi delle famiglie e dei cittadini italiani. Come lo facciamo, poi magari nel proseguere della trasmissione lo specificerò, ma anche meglio, come facciamo ogni anno, indipendentemente dalle elezioni, ogni giorno attraverso le nostre nuove sedi in Abruzzo, che sono aperte, a differenza dei comitati elettorali, tutti gli anni, sono aperte con sportelli gratuiti, sono aperte con raccolte alimentari, sono aperte con l'assistenza, un primo sportello gratuito, come ho detto, sia fiscale che legale, dove è possibile addirittura anche facciamo delle visite con medici, di screening, anche cardiologi. Questa è Casa Pound Italia, purtroppo per me l'ho conosciuta troppo tardi, altrimenti sarei entrato in Casa Pound molto tempo prima e avremmo forse partecipato a più elezioni. Sara Marcozzi, candidata sostenuta dalla lista del Movimento 5 Stelle. Buonasera, grazie per questo invito e questa opportunità. Ho 41 anni, sono avvocato, sono nata a Pescara, ma ho sempre vissuto a Chieti, quindi sono una mezzosangue, si può dire. Sono avvocato, ho un master di primo livello in economia e gestione delle imprese e mi sono avvicinata alla politica, insomma sono sempre stata una cittadina attenta alla politica, ho sempre seguito la politica da cittadina responsabile, da elettrice. Mi sono avvicinata alla politica nel 2011, anno in cui diciamo si è segnato il massimo dell'ipocrisia quando Silvio Berlusconi fece quel famoso discorso sui ristoranti sono pieni, la crisi non c'è. In quel momento insomma ho deciso di avvicinarmi attivamente e di fare politica attiva perché insomma ero un po' stanca delle ipocrisie e delle mistificazioni che ci venivano propinate sia dal centrodestra che dal centrosinistra. Ci veniva comunque raccontata una realtà che era diversa da quella che tutti noi cittadini vivevamo. Mi sono avvicinata al Movimento 5 Stelle con un'esperienza di grande partecipazione e nel 2014 mi sono candidata in consiglio regionale, quindi negli ultimi cinque anni ho svolto l'attività di consigliere regionale, un'attività di grande opposizione, un'attività di grande studio. In cinque anni abbiamo depositato decine di progetti di legge, abbiamo depositato centinaia di interpellanze e di interrogazioni, abbiamo tentato di preservare i diritti degli abruzzesi, di salvare i diritti degli abruzzesi contro un governo di centrosinistra del Presidente D'Alfonso e della sua giunta che di fatto ha distrutto la sanità, non pensato ai giovani e al lavoro, ha pensato più alla carriera politica di un singolo uomo, cioè il Presidente D'Alfonso, piuttosto che al benessere dei cittadini abruzzesi. Negli anni abbiamo visto, e io mi sono avvicinata alla politica, perché il centrodestra e Forza Italia di Silvio Berlusconi, il partito delle imprese, ci parlava dei diritti delle imprese e degli imprenditori e ha fondato Equitalia. Il centrosinistra, che avrebbe dovuto essere vicino ai lavoratori e vicino a quelle che sono le esigenze più della popolazione, dei lavoratori e degli operai, ha abolito l'articolo 18. Lo stesso percorso è avvenuto in Consiglio regionale. Negli ultimi dieci anni di legislatura di centrodestra e di centrosinistra sono stati chiusi ad esempio 5 ospedali del centrodestra e 5 ospedali del centrosinistra. Noi ci proponiamo come alternativa, questo è il nostro programma, me lo porto sempre dietro, perché sono 140 pagine di sintesi di proposte che noi abbiamo fatto anche all'opposizione in Consiglio regionale che purtroppo non sono state recepite, ma che possono di fatto migliorare la qualità della vita dei cittadini abruzzesi. Giovanni Lignini. Buonasera e grazie. Il mio percorso di vita professionale, istituzionale, credo sia ampiamente noto ai cittadini abruzzesi, a gran parte dei cittadini abruzzesi. Sono nato in un piccolo comune da una famiglia umile fino all'esperienza recente, un'esperienza di vertice di un organo di rilevanza costituzionale, ho fatto l'avvocato, l'ho fatto con molta passione, dedizione, sono stato sindaco del mio piccolo comune, una palestra per me straordinaria, conservo molti ricordi di quegli anni in età giovane. Tra questi ricordi ve ne è uno che voglio sottolineare. Fui chiamato dal Lanci a svolgere un'attività formativa per i sindaci della Sicilia e della Sardegna sul ruolo del sindaco nella promozione di imprese e di lavoro, perché nel mio piccolo comune riuscimmo a promuovere 200 opportunità di lavoro in 10 anni. Presidente del Consiglio Comunale a Chietin dal 2005, senatore, deputato, membro del governo, sottosegretario della Presidenza del Consiglio con delega di editoria all'attuazione del programma di governo, al Ministero dell'Economia con delega al Cipe, ai Monopoli, alla ricostruzione dell'Aquila e del Cratere, al dissesto degli enti locali, tra cui Roma Capitale e poi l'esperienza per me straordinaria ai vertici del Consiglio Superiore della Magistratura, quale vicario del Capo dello Stato. Che cosa mi muove in questa competizione elettorale? Mi muove innanzitutto il desiderio di restituire ai miei concittadini, cittadini abruzzesi, l'esperienza istituzionale, la conoscenza dei problemi del nostro paese, della nostra regione che sono stati sempre al centro del mio percorso istituzionale. Chi come me si è occupato per 10 anni di finanza pubblica, di politica, di bilancio, ha avuto la possibilità di conoscere e di seguire i problemi delle regioni, degli enti locali, del sistema delle imprese, dei cittadini, del sistema previdenziale e oggi è nelle condizioni, sono le condizioni di rappresentare questa nostra regione, questa è la mia volontà, con forza, consapevole del ruolo della nostra comunità regionale, delle aspirazioni dei nostri cittadini, delle nostre imprese, delle nostre istituzioni locali, questa è la mia volontà. Grazie, grazie, allora abbiamo avuto un primo giro di presentazioni in qualche modo, abbiamo conosciuto magari anche qualche aspetto che non era noto delle vite dei quattro aspiranti governatori. Adesso telecamera, microfono a Lorenzo Colantonio per la prima delle sue domande. La prima delle mie domande, che è altrettanto semplice come lo è stata la tua, però è un termometro dell'autenticità dei nostri quattro candidati. E allora domanderei al primo che risulta dalla tua estrazione, Sara Marcozzi, che cosa ha fatto finora per l'Abruzzo? Dunque, ho cominciato come ho anticipato prima, da cittadina attiva, ho portato avanti numerose battaglie, poi in Consiglio regionale, abbiamo combattuto accanto ai cittadini abruzzesi alle decine di migliaia di cittadini abruzzesi contro le petrolizzazioni, ad esempio contro Ombrina. abbiamo portato avanti tante battaglie in difesa del territorio, per l'ambiente, penso anche al SIN di Bussi, abbiamo depositato anche esposti da cittadini sull'inquinamento persistente, una vicenda insomma che ha segnato il nostro territorio e che francamente a mio avviso non ha visto ancora giustizia, insomma è una vicenda un po' particolare quella di Bussi. Poi in Consiglio regionale, come ho detto prima, abbiamo depositato tante proposte di legge, tutte proposte di legge volte ovviamente a migliorare la qualità della vita dei cittadini abruzzesi e cioè proposte in tema di lavoro, proposte in tema di sanità, proposte che contrastassero il piano di riordino, come lo chiamo io, di disordino dell'assessore Paolucci della sanità, che ha smembrato la sanità e oggi si ricandida con il centro-sinistra. Abbiamo fatto tante osservazioni al bilancio di regione Abruzzo anticipando di fatto tutte quelle che sono state poi confermate dalla Corte dei Conti come contestazioni proprio in tema di bilancio in quanto a impiego di spesa. Bilancio anche qui nelle mani dell'assessore Paolucci che ad oggi non è ancora riuscito, dopo cinque anni quasi di legislatura, ad ottenere la parifica dei bilanci con tutte le conseguenze che questo comporta. Abbiamo cercato di fare sia da cittadini che da consiglieri regionali di opposizione tutto ciò che la legge ci ha consentito, cioè sia in tema di interpellanze, quindi di sindacato ispettivo, sia di proposte. Abbiamo mantenuto tutte le promesse che potevamo mantenere stando all'opposizione e cioè avevamo detto agli elettori ad esempio che ci saremmo dimezzati lo stipendio, ci siamo dimezzati lo stipendio, in cinque consiglieri regionali in quattro anni e mezzo abbiamo rinunciato ad oltre 700 mila euro. Che cosa ci abbiamo fatto? Abbiamo tentato di fare piccoli atti di governo pur stando all'opposizione e cioè abbiamo creato un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per il microcredito alle piccole e medie imprese che ha finanziato sul territorio abruzzese oltre 90 imprese. Abbiamo acquistato dopo la tragedia di Rigopiano, che tra l'altro è il cui anniversario ricorre oggi, una turbina a spalaneve, l'abbiamo acquistata e l'abbiamo donata alla protezione civile abruzzese, abbiamo fondato, diciamo così, una borsa di studio, abbiamo erogato una borsa di studio a giovani progettisti per delle idee, in un contest di idee per la riconversione del sindi bussi che ricordo da dieci anni attende ancora di essere messo in sicurezza da quelli che erano gli esperti, da quelli che hanno governato paese e regione per 30 anni e che si autodefiniscono esperti e da ultimo abbiamo acquistato quattro ambulanze e le abbiamo donate alle quattro ASL di Chieti. Quindi pur stando all'opposizione, piccoli atti di governo in tema di lavoro, imprese, sicurezza, sanità, tutte le priorità, diciamo, dei cittadini abruzzesi. Marco Marsiglio è il secondo a rispondere alla domanda di Colantone. Stessa domanda? Sì, sì, la stessa per tutti, per par condicio assoluta. Par condicio assoluta. Per l'Abruzzo, parlano anche i miei atti parlamentari, sia nella primo mandato che ho fatto nella sedicesima legislatura alla Camera dei Deputati che in quello attuale, eletto al Senato, praticamente tra i miei primi atti ci sono interrogazioni parlamentari che riguardano gli sversamenti di idrocarburi naturali nel torrente a Rolle, piuttosto che l'interrogazione che ha dato poi il via al Governo per stanziare i fondi, per mettere in sicurezza il ponte che collega l'Alto Vastese con il Molise, che impedisce a molti comuni delle zone di margine della nostra Regione di poter essere collegati, fino a fare, aver svolto di fatto un ruolo da Senatore aggiunto sul tavolo della ricostruzione, convocato dalla Regione Abruzzo, un tavolo istituzionale al quale minuro di aver partecipato a quasi tutte le sedute, a differenza di molti parlamentari abruzzesi che non si sono mai visti e che non hanno ritenuto di doversi confrontare con i sindaci, con i Presidenti delle province, con il Presidente e gli assessori della Regione Abruzzo, con le categorie, con le associazioni datoriali, con i sindacati che intorno a quel tavolo hanno costruito le proposte da portare al Governo, da portare in Parlamento e che io ho sostenuto, con emendamenti, purtroppo con emendamenti, perché devo dire su un tema come quello della ricostruzione non ci dovrebbe essere bisogno di presentare emendamenti in Parlamento, dovrebbe essere il Governo di sua iniziativa a farlo. Da poco tempo c'è finalmente di nuovo un sottosegretario con delega alla ricostruzione e speriamo che cambi il passo anche in questo perché su certi temi non dovrebbe esistere né opposizione né maggioranza, bisognerebbe lavorare tutti insieme. Io mi sono messo a disposizione su quel tavolo nonostante il fatto che non fossi stato eletto dai cittadini abruzzesi ma dovessi, potevo limitarmi a rispondere soltanto ai cittadini del Lazio che mi avevano eletto. Però, come dicevo prima, intanto quando si fa il parlamentare si rappresenta l'intera nazione, quindi non solo una provincia o una città che ti ha eletto, ma è chiaro che c'è un'affezione, un'elezione, un rapporto ancestrale con la propria terra che mi porta ad essere attento e a lottare anche a Roma per l'Abruzzo perché quando Virginia Raggi ha voluto spostare il terminal bus dalla Tiburtina da Nagnina danneggiando i pendolari e le aziende abruzzesi, costringendoli a fare un'ora in più di viaggio per arrivare nella capitale, io ho combattuto contro questa scelta schierando anche il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia in Campidoglio di tutta l'opposizione di centrodestra guidata da Giorgia Meloni in Campidoglio e questa proposta, questo spostamento è stato sventato, adesso dobbiamo definire questo aspetto perché non è ancora definitiva la decisione, ma è una battaglia che abbiamo combattuto, così come in Parlamento ho combattuto contro la chiusura dei tribunali, qui in Abruzzo ci sono quattro tribunali che si stanno chiudendo, si è solo spostato di un anno l'esecuzione di questa sentenza di morte per questi tribunali significa privare tutto l'Abruzzo meridionale del diritto all'accesso alla giustizia in tempi ragionevoli, parliamo di Vasto, Lanciano, Sulmona ed Avezzano, queste sono le battaglie che ho fatto per l'Abruzzo e tante altre continueremo a fare. Giovanni Legnini, cosa ha fatto finora per l'Abruzzo? Dovrei fare un elenco lunghissimo essendomi occupato della gran parte dei problemi della nostra regione nell'arco dei dieci anni di mia attività politico-istituzionale, prima ancora nei ruoli pregressi, ne voglio citare solo alcuni che coincidono peraltro con i problemi che abbiamo e che dobbiamo affrontare nei prossimi anni, innanzitutto la ricostruzione dal primo giorno successivo al 6 di aprile, io ho seguito costantemente, intervenuto, fatto proposte, emendamenti, ho ottenuto norme e risorse per la ricostruzione all'Aquila, nel cratere, fuori cratere, in particolare negli anni di mia permanenza al governo siamo riusciti a stanziare 6 miliardi e 200 milioni di Euro, 1 miliardo e 2 più 5 miliardi per far partire la ricostruzione cosiddetta pesante, che era ferma nel 2012 perché le risorse pregresse erano esaurite, riuscì ad ottenere con una mia proposta emendativa lo stanziamento di 50 milioni di Euro dei primi, 50 milioni di Euro per la bonifica dei bussi, ai noi, quei soldi non ancora vengono spesi e questo è grave, è un problema, peraltro proprio in questi giorni il forum H2O ha lanciato un allarme che io condivido perché il Ministero dell'Ambiente ha revocato la giudicazione dei lavori per ragioni che non sono ancora note, così bloccando ancora il percorso di bonifica che va urgentemente affrontato e risolto anche con altre risorse, ne occorreranno tanti. Ho consentito e proposto il finanziamento, qual è il relatore della legge di stabilità del completamento della Fondo Valle Sangro, 30 milioni nel 2012, 70 milioni prima che andassi io dal governo nel 2014, 100 milioni ai quali sono state aggiunti poi le risorse del masterplan, il cantiere partito. Fu mio l'emendamento per salvaguardare i quattro tribunali minori, ho un ricordo indelebrio di una notte nella quale io proposi, ottenne il voto e poi le proroghe successive, da molti anni i quattro tribunali sono aperti grazie a queste mie proposte e ringrazio il senatore Massiglio perché l'ultimo anno è stato lui a proporre l'emendamento, essendo lui in Parlamento oggi, dobbiamo batterci tutti per salvaguardare questi presidi giudiziari, presidi di sicurezza, perché la sicurezza, il funzionamento del sistema giudiziario, il rispetto della legalità sul nostro territorio deve costituire un principio che unisce tutti quanti gli abruzzesi, che informa la futura azione di governo. Siamo al Fraiani. Sì, io devo fare necessariamente una piccola premessa in questo senso. Casa Pound non nasce come una formazione politica per partecipare alle elezioni, nasce come un'associazione di promozione sociale e il suo interesse primario e fondamentale era proprio l'essere umano, la persona. Ecco, da qui la formazione di cultura, la formazione sportiva, l'aiuto gratuito e servizio di edizione in ciò che si faceva nella raccolta alimentari e gli dicendo. Proprio questo collegamento diretto, proprio questo contatto diretto con tutta la cittadinanza ci ha sempre permesso di poter fare e predisporre anche progetti di legge già belli che scritti, già belli che pronti. Le avevamo proposti a alcuni candidati delle varie amministrazioni, delle varie competizioni elettorali negli anni. Alcuni di questi se ne sono fatti anche portatori, sbandierando questi nostri progetti, poi purtroppo una volta eletti si sono sempre dimenticati. E allora proprio a quel punto Casa Pound ha iniziato a decidere di scendere nelle competizioni, di partecipare alle competizioni elettorali direttamente. Questo non è solo, però rimaniamo sempre come un'associazione di base, un'associazione di promozione sociale che è sempre a contatto con le persone. Per dire, io tempo fa avevo fatto anche un post su Facebook il martedì, noi nella nostra sede di Alba Adriatica abbiamo un primo sportello gratuito di assistenza legale per le famiglie, per le persone, dove chi ha difficoltà senza nulla chiedere, cioè non chiediamo la tessera, non chiediamo contributi, non chiediamo nulla, è un servizio ai cittadini. Chi ha necessità, vieni lì, illustriamo le tempistiche, i costi, la possibilità di adire al gratuito patrocinio, la possibilità o meno, così a prima vista di quello che si può fare e questo oggi noi lo vogliamo portare direttamente nelle nostre competizioni elettorali. Faccio un esempio molto pratico di quello che è accaduto. Nelle alluvioni, quando le autovetture vengono alluvionate e vengono, diciamo, rimosse alla protezione civile, il proprietario comunque tenuto al pagamento del bollo auto se non fa la perdita di possesso al Pra. Purtroppo molte persone, anche dopo 3-4 anni che sono rimaste fuori casa perché non hanno ancora possibilità di rientrare, si sono visti recapitare la notifica del bollo da pagare e gli uffici del bollo della regione Abruzzo ti dicono che ai fini fiscali non vale quella rimozione della protezione civile, ma è colpa tua che dovevi fare la perdita di possesso. Questo, come tante altre cose, sono quelle piccole, ma io penso che siano fondamentali, importanti situazioni che vivono le famiglie. Purtroppo non sempre il candidato, l'eventuale eletto nelle pubbliche amministrazioni, in questo caso nelle regioni, è sempre stato a contatto con la cittadinanza, con le mille problematiche sfaccettature che la cittadinanza rappresenta e quindi assistiamo a questo cosiddetto famoso scollamento tra la situazione reale, le esigenze reali ed oggettive e ciò che si va invece a creare e poi prospettare o progettare all'interno della propria azione amministrativa. Bene, io in tanto vi devo fare i complimenti a tutti e quattro perché, hai visto Lorenzo, sono stati proprio sul filo del gong, come si dice. Certamente il dono della sintesi è una qualità per un aspirante presidente della regione, quindi anche in questo caso è possibile pesarlo. I tempi europei, adesso però i tempi televisivi ci impongono la prima delle nostre due pause, ci vediamo tra pochissimo, riprenderemo con il nostro confronto elettorale. Siamo tornati in studio, altra domanda del collega Colantonio in un nuovo ordine di risposta da parte dei candidati. Carmine, premettendo che ciascuno dei candidati nell'arco dei suoi tre minuti può anche replicare a qualcosa detto dal competitor, magari nella risposta precedente. Vediamo se esce qualcosa di più. Passiamo alla terza domanda, devo qualcuno prendere appunti, quindi può essere un'occasione. Esatto. Allora, passiamo alla terza domanda, anche questa molto semplice. Se è eletto, quale sarà la priorità, come dire, il primo atto da compiere per l'Abruzzo? In questo caso il primo a rispondere è Giovanni Legnini. I macro obiettivi, i grandi obiettivi della futura azione di governo regionale, li ho indicati per tempo in modo molto chiaro, una comunità, la nostra, che deve essere orgogliosa della sua storia e della sua cultura, consapevole della sua forza, l'istituzione regionale deve recuperare il senso, la forza dell'organo legislativo, l'efficienza delle strutture amministrative e poi il lavoro, la salute, l'ambiente pulito. Questi sono i nostri grandi obiettivi. fare tutto ciò che è nei poteri della regione, utilizzare leggi, provvedimenti amministrativi, risorse finanziarie per allargare le opportunità di lavoro, far crescere il sistema delle imprese, vivere in un ambiente pulito, disinquinare il territorio che è inquinato. Nell'elenco che facevo prima non ho fatto in tempo a dire che uno degli atti che io riuscì a realizzare fu lo stanziamento di 70 milioni di Euro per i nostri depuratori, opere che devono ancora essere realizzate, promuovere, rendere effettivo, inverare il diritto alla salute, attraverso la riorganizzazione della rete di assistenza, della rete ospedaliera, dell'abbattimento, con l'abbattimento delle liste di attesa, migliorare il servizio sanitario. Ma la priorità, la nostra priorità è consentire ai nostri giovani di vivere, studiare, lavorare in Abruzzo, attraverso una riprogrammazione delle risorse che sono disponibili, quelle del Fondo di sviluppo e coesione, i fondi europei, dedicando una quota importante, sarà uno dei primi atti questi che compieremo, appunto a promuovere lo sviluppo della nostra economia e a far sì che questo modello di sviluppo che si è profilato, determinato in questi anni, lo sviluppo sostenibile della nostra regione, sia ulteriormente implementato, rafforzato, si faccia leva su un sistema di imprese innovative, un quinto delle nostre imprese hanno investito in questi anni in green economy, in economia verde, in economia circolare, la carta di Pescara che è stata stipulata ne suggella finalità, obiettivi che noi dobbiamo assolutamente sostenere. Questa deve essere la prima delle preoccupazioni del nuovo Presidente della Regione, sarà la mia prima preoccupazione insieme all'efficientamento della struttura e della macchina amministrativa. Sì, ho preso appunti, cercherò di essere molto rapida, il viadotto di cui parla Marco Marsilio che collega il Molise all'Abruzzo è il viadotto Sente sul quale il Movimento 5 Stelle in legge di bilancio ha stanziato, nazionale evidentemente, ha stanziato 2 milioni di euro per la messa in sicurezza. Primo governo che lo fa. Il Sindaco Raggi non è che ha voluto spostare la stazione Tiburtina, il Sindaco Raggi si è trovata nei fatti la stazione Tiburtina, la gestione della stazione Tiburtina affidata in maniera abusiva, quindi aveva, come dire, era il bivio tra scegliere se commettere un reato e continuare ad affidare in maniera abusiva la gestione oppure cercare di rimediare a chi aveva affidato abusivamente prima di lei la gestione. I tribunali li ha chiusi il governo del PD nazionale, cioè il governo Monti appoggiato comunque dal PD ha ragione, appoggiato dal PD che ha votato nel governo Monti, anche lei, la legge Fornero, il pareggio di bilancio, tutti i provvedimenti che hanno di fatto tagliato i fondi allo Stato e a cascata alle regioni e ai comuni. Se noi ci troviamo nella situazione in cui siamo oggi, in cui l'Abruzzo ha 30.000 disoccupati in più negli ultimi cinque anni, 4.000 imprese in meno, una povertà continuamente crescente, in controtendenza disoccupati e imprese rispetto a tutto il resto d'Italia, rispetto al mezzogiorno, è evidente che qualcosa non ha funzionato. A me affascina questa narrazione dei risultati, ma insomma è quello che dicevo prima, cioè ci candidiamo perché la narrazione dei risultati e dei risultati straordinari dei grandi politici esperti con il curriculum che sono al governo nazionale e regionale da 30 anni evidentemente non corrisponde alla situazione che vivono i cittadini abruzzesi. Che cosa faremo? Il primo atto da compiere è fondamentale, le priorità sono, come dire, gli interventi sono tutti prioritari, perché è tutto, se facciamo l'elenco di tutte le competenze di Regione Abruzzo non c'è una cosa che funzioni. La priorità è certamente trovare il lavoro ai nostri giovani e cercare di contrastare questa tendenza drammatica alla disoccupazione. Il primo atto sarà redigere la nuova programmazione europea, non come è stata fatta finora, e cioè con finanziamenti elargiti a pioggia, con bandi finalizzati a interventi spot che non servono a niente, ma indirizzandola verso il lavoro, quindi credito di imposta, agevolazioni per le assunzioni agli imprenditori, la Regione deve farsi carico dell'accesso al credito, perché è un dramma che ci chiedono tutte le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, riformare la sanità contro il decreto Lorenzin, perché quello che ha distrutto la sanità è il decreto Lorenzin, applicato pedissequamente dall'assessore Paolucci, Lorenzin che ha anche appoggiato la lista di centrosinistra, per cui io sono un po' preoccupata. Allora, Flaiani, io le auguro di vincere le elezioni con il 51% dei voti, però se riformulo un po' la domanda di Colantonio, nei suoi confronti perlomeno, diciamo, lei arriva in Consiglio regionale, qual è il primo provvedimento di legge che lei firma se supera questo 4%? Per il 51% dipende dagli elettori, dipende da chi vota. Il 4.01% però la porta sui banchi. Sì, sì, no, quello sicuramente, quello dipende dagli elettori, come il 4 marzo hanno voluto dimostrare un cambiamento, anche se poi si sono fatti abbagliare, tra virgolette, con questo famoso voto utile, io ero uno di quelli che dicevo, scrivevo, non vi fate abbagliare a questo voto utile, infatti dopo qualche mese scrivevo continuamente, avevamo detto che il voto utile era quello che era. Il discorso del primo provvedimento, le criticità ne sono tante, dare una priorità a una criticità più che a un'altra è un problema, perché? Perché le criticità non le possiamo osservare l'una per una singolarmente. È il momento stesso che io voglio ricreare lavoro e faccio delle attività di lavoro per una determinata area industriale, area artigianale, ma quell'area artigianale non è supportata da una rete di aria adeguata, ecco che io posso creare tantissime opportunità, ma poi queste opportunità non vengono sfruttate perché i camion non ci possono arrivare in quell'area artigianale, in quell'area industriale, quindi è inutile parlare di lavoro se non parli anche di strade. Se parli di strade non possiamo esimerci dal non affrontare il discorso delle autostrade, la 24 e la 25 in particolare, dove noi come Casa Pound Italia a marzo 2018, quindi non sapevamo nemmeno le elezioni, abbiamo protestato sotto al Ministero, sotto al Ministero siamo stati criticati dai sindaci presenti, i sindaci abruzzesi presenti, perché non era quello il modo di fare le richieste, di fare e di protestare, però guarda caso il 31 di dicembre quei sindaci che io ho visto che stavano insieme a noi, che ci hanno criticato, guarda caso uno di questi poi è stato uno delle portavoci della protesta dei sindaci di 31-12 all'Aquila Ovest, questo per farvi capire che la politica non è che si fa solo in campagna elettorale e poi durante i 5 anni di amministrazione si cerca di mantenere più o meno, che poi anche lì è relativo, le varie promesse elettoriche, le promesse se ne possono fare tante, però l'importante è vedere quello che si può fare, anche nei primi atti che si possono fare in qualsiasi giunta, che poi siamo noi o siano loro per carità, ci sono azioni e provvedimenti che si possono fare immediatamente e azioni e provvedimenti che non si possono fare immediatamente perché ci sono anche determinati tempi tecnici da rispettare, sicuramente noi se saremo in consiglio regionale faremo rispettare tutte le varie promesse di tutti gli altri candidati che vi hanno fatto e vi hanno proposto a voi elettori durante questa campagna elettorale perché ripeto, promettere si fa subito, fare ci vuole un pochino di più. Quello che noi puntiamo, ma giusto per dire una cosa che sentiamo di tutto, perché se io non ho viabilità, non ho lavoro, non ho sicurezza, non ho accesso neanche alle strutture sanitarie esistenti, allele di quelle che si vogliono chiudere, ai tribunali, e che io l'ho scritto, quindi ripeto fondamentalmente quello che ho scritto su Facebook, chi viene in Abruzzo, allora normalmente un ospite quando va a casa di altri porta un regalino, porta un pensierino, ecco io gradirei di tutte queste persone che vengono in Abruzzo, che vogliono anche gestire l'Abruzzo, che ci portassero un regalino, magari, non dico tanto, una nazionalizzazione di A24 e A25, già riconosciute per legge come opere strategiche ai fini da protezione civile, cioè che i fini nazionali sono opere strategiche, nonostante questa legge A24 e A25 sono state lasciate ad un gestore privato che ha continuato a lucrarci sopra, oggi stiamo davanti a Barzellette e Bracci di Ferro, tra amministratore delegato e ANAS sui tasti di interesse da corrispondere e vi dicendo, quindi se si volesse fare, si farebbe oggi senza campagna elettorale. Marsilio. So che questa storia del primo provvedimento piace molto ai giornalisti che ci fanno sempre questa domanda, non sapendo che i primi provvedimenti sono scartoffie burocratiche, però al di là delle battute, la priorità assoluta io credo che sia la ricostruzione, c'è un cratere fermo, soprattutto la ricostruzione in provincia di Teramo, ma nel secondo cratere in generale è sostanzialmente ferma, una vergogna, poche decine di pratiche esaminate e licenziate in due anni e nel frattempo abbiamo ancora migliaia di persone fuori casa, su cui paghiamo anche tanto di sistemazione alberghiero, di sistemazioni alternative. C'è un ufficio che dipende dalle scelte del Presidente della Regione, chi mi ha preceduto, Luciano D'Alfonso, ha fatto delle scelte fallimentari che hanno prodotto questo risultato disastroso. Penso che questo sia davvero il primo argomento, il primo atto che affronterò e che affronteremo insieme a tutta la coalizione. Insieme a questo, subito dopo, abbiamo delle scadenze urgenti che riguardano i fondi europei. Rischiamo al 31 dicembre, anche qui per una incapacità totale dell'amministrazione uscente a utilizzare questi fondi e a fare dei bandi e soprattutto, una volta fatti i bandi, anche ad esaminarli e a fare le graduatorie. Rischiamo di perdere centinaia di milioni di fondi europei non spesi sui quali dobbiamo assolutamente accelerare, quindi riunire gli uffici competenti, parlare non solo con gli uffici ma anche con le associazioni di categorie datoriali per capire come raddrizzare questa situazione e come rimettere in piedi una macchina che deve riportare in Abruzzo i soldi che all'Abruzzo sono dovuti e che all'Abruzzo gli spettano, perché non si può piangere sempre sulla mancanza di fondi in bilancio che ci costringe a chiudere servizi o non ci permette di riparare strade e di fare le cose che servono quando poi ci sono centinaia di milioni che vengono buttati e sciupati perché nessuno è capace di andarli a prendere. Sulla sanità, liste d'attesa e riordino ospedaliero. Benvenga se il Ministro Grillo, che oggi è del Movimento 5 Stelle, farà e lo attendiamo con impazienza un controdecreto Lorenzin per rivedere i parametri, noi siamo pronti a lavorare perché si superino certe logiche da numeretti che valgono per le aree metropolitane ma non possono valere per le zone interne e per le aree disagiate. Peraltro il riordino che è stato fatto da questa amministrazione uscente è un riordino che sta distruggendo tutta la sanità, anche i grandi ospedali, perché a Chieti e a Pescara gli ospedali scoppiano perché non c'è più nessuno sul territorio che intercetta le prime urgenze e le patologie più semplici. Le persone in barella, nelle corsie, non c'era bisogno di andare ieri come sono stato dentro l'ospedale per vederle la prima volta. Mio padre è stato operato d'urgenza per un appendicite, da tocco si è trasferito a Chieti, anche qui un'altra particolarità per cui chi abita in provincia di Pescara va nell'ospedale di Chieti, ci sono due asero diverse, direzioni diverse, insomma una confusione totale di organizzazione che deve essere affrontata e risolta e rispetto alla quale i cittadini chiedono un nuovo passo anche sulla sanità. Una nuova domanda di Lorenzo con Antonio. Sì, sì, è chiaro che il politico dà per scontata la domanda sulla priorità e così, perché forse si aspetta di sentirsi fare questa domanda, come chiedere una missa che cosa vuol fare da grande, no? Andiamo all'altra domanda, in pratica molti di voi hanno già parlato di priorità, allora la quarta domanda era sui giovani e l'occupazione, voglio ampliarla, l'occupazione in generale, non solo i giovani ma anche le persone che hanno superato i 50 anni, che cosa prevedete con il vostro programma? Stefano Flaiani, il primo sorteggiato a rispondere a questa domanda. Allora, noi siamo apertamente contrari a questa forma di Unione Europea che consideriamo una gabbia, siamo però contributori netti, quindi diamo più soldi di quelli che rientrano eventualmente, se già parlato anche gli altri candidati hanno parlato di bandi, hanno parlato di fondi europei, necessariamente dobbiamo andare a intercettare quei fondi, visto che da Roma, come il Governo nazionale, arrivano sempre meno fondi e comunque anche le tasse locali non vengono più riversate completamente all'interno del territorio da dove sono state prelevate, dobbiamo andare a ricreare delle situazioni, delle opportunità. Io ho accennato prima a una rete viaria perché fondamentalmente si può parlare di ricostruzioni, si può parlare di ospedali, si può parlare di aree in giustizia, ma se tu non ci puoi arrivare in queste aree o non puoi arrivarci, la rete viaria io penso che sia fondamentale come il trasporto pubblico, nel senso che se tu non hai mobilità, che non hai possibilità di uscire, è inutile che io faccio bellissime cose o cattedrali nel deserto perché poi dopo ci devo arrivare con i cammelli. Una delle nostre proposte, ma solo come esempio, era la possibilità di far riaprire, di far riattivare uno di questi capannoni, comunque queste aree industriali, che ce ne sono tantissime Abruzzo e la maggior parte tutte abbandonate, con magari il finanziamento all'imprenditore che vuole riaprire questo capannone, dei pannelli fotovoltaici per lo scambio sul posto. Questo perché? Perché all'imprenditore che vuole riaprire, vuole riassumere in posto, gli dà l'opportunità di togliere una voce dei costi di produzione, che è la corrente elettrica. Parlo di scambio sul posto perché oggi per normativa nazionale la produzione dell'energia elettrica non è più conveniente perché si sono abbassati tutti i contributi, tutti quelli che ti possono ridare come emolumento, come pagamento. Invece lo scambio sul posto è sempre ancora conveniente, nel senso che io produco e consumo quello che produco. Bisogna andare a fare necessariamente dei incentivi, ma qui la Regione Abruzzo deve necessariamente lavorare di concerto, fare tavoli con un governo nazionale che purtroppo, al di là di molti proclami, non fa, però noi dobbiamo considerare l'Abruzzo, così com'è, che è uno specchio bellissimo della realtà italiana, tra montagna, colline e mare, e dobbiamo andare a preservare queste situazioni. Un altro esempio che poi non si può parlare a compartimenti stagni, per ridurre le liste d'attese, noi consigliavamo, abbiamo questa idea di far mettere i medici specializzati, giovani medici specializzati che ancora non hanno un posto di lavoro, a metterli a fianco per far scremare queste liste di attese e farli mettere lì pagati dalla Regione e fargli fare le visite, mettere i medici, questi medici sempre sulle ambulanze, perché ieri leggevo addirittura dove hanno già tagliato i punti nascita in Umbria, sette parti su dieci avvengono in ambulanza dove non c'è neanche un medico su questa ambulanza, perché anche l'Umbria geograficamente è quello che è, ci sono vallate montagne, quindi chi si inventa queste cose è o un ignorante di geografia o è completamente disinteressato alle esigenze reali dei cittadini. Come l'ultima volta siamo andati a Sulmona a protestare, e questo concludo, sia sulla bretella ferroviaria sia sul punto nascita, che ripeto, se si volesse fare non si aspetta l'11 febbraio. Legnini, lavoro, giovani e occupazione. Molte le iniziative da promuovere e da portare avanti, che il nostro programma prevede con estrema precisione. Innanzitutto noi dobbiamo ripartire da ciò che abbiamo, rafforzarlo, far sì che il nostro sistema delle imprese, in particolare quelle produttive di beni e di servizi possa innovarsi, internazionalizzarsi, stare a testa alta nei mercati nazionali e globali. Noi siamo la quinta regione per esportazione, la settima regione per densità industriale. Vorrei che non ce lo dimenticassimo mai, perché quelle imprese chiedono alle istituzioni pubbliche di fare la loro parte. Dobbiamo sostenere le piccole e medie imprese nell'accesso al credito. Io investirò risorse importanti per far sì che il sistema dei confidi, dei imprese, di fare la leva virtuosa sugli investimenti e sulla gestione delle imprese medesime, promuovere le iniziative sostenute finanziariamente di autoimprenditorialità, start-up innovative, farlo in tutti i settori, quello industriale, ma quello del turismo che ha bisogno di essere fortemente rafforzato e rilanciato, del turismo e della cultura, dell'agricoltura, le cui imprese vanno accompagnate lungo un sentiero di crescita, abbattendo gli oneri burocratici, allontanando la carta e i vincoli della burocrazia dallo sviluppo virtuoso delle imprese. Dobbiamo alimentare le politiche attive del lavoro, quelle di sostegno alle assunzioni, alle assunzioni dei giovani, contrastare con forza come si sta facendo, e voglio ringraziare il Presidente Vicario Lolli per il lavoro che sta facendo, le crisi industriali, avviare la soluzione, alcune parzialmente sono state affrontate. Vogliamo favorire un rapporto virtuoso, sinergico tra i centri di ricerca, le università e il mondo delle imprese, il sistema delle imprese. Vogliamo far sì che la formazione, l'acquisizione di nuove competenze e conoscenze per i giovani sia posto in diretta relazione con il mercato del lavoro, avvicinare sempre di più, integrare la formazione di ogni livello, quella professionale, quella universitaria, la ricerca e il sistema delle imprese, l'aspirazione alla crescita sostenibile delle imprese. Marco Marsiglio. Per creare lavoro serve innanzitutto agire sulla leva fiscale e sulle infrastrutture. Sul fisco, insieme alle provvedimenti che parzialmente il Governo nazionale sta facendo per diminuire il carico fiscale, bisogna aggiungere quello che può fare la Regione, un rapido rientro, una rapida fuoriuscita dal piano di rientro sanitario, dal commissariamento, ci permetterà di togliere gli addizionali IRPEF che gravano su tutti i cittadini e su tutte le aziende abruzzesi. Bisogna lavorare sulla fiscalità di vantaggio per chi assume e per chi vuole investire. Bisogna definire rapidamente alcune scelte strategiche importanti, come quella che riguarda la zona economica speciale, la sua perimetrazione, le scelte di fondo su dove sviluppare questi nuovi insediamenti e dove permettere insediamenti con vantaggi fiscali e contributivi. Bisogna lavorare soprattutto sulle infrastrutture, perché oggi c'è questa Regione che ha una forte presenza industriale che è stata ricordata, però è come se questa presenza di lavoro, di imprese fosse stretta dentro una gabbia. Non ci sono porti, i porti che ci sono, quando non sono insabbiati, sono assolutamente insufficienti e non sono forniti di piattaforme logistiche e scambio intermodale che permette alle merci di poter camminare. L'autostrada Roma-L'Aquila, la più Roma-L'Aquila-Pescara, è la più costosa d'Italia forse d'Europa e quella adriatica, l'abbiamo ricordato prima, ha due corsie, non ha capacità di carico sufficiente. Le ferrovie non ne parliamo, c'erano più strade ferrate agli inizi del Novecento, quindi cento anni fa in Abruzzo, che oggi. E questa condizione di infrastrutture, non parliamo dell'aeroporto perché è quasi inutile sottolineare in quale stato di insufficienza vive l'aeroporto Chiedi-Pescara. In queste condizioni è un miracolo che queste aziende ancora possano lavorare, offrire lavoro, generare ricchezza e distribuirla. Quindi lavorare molto sulle infrastrutture significa creare il terreno fertile per gli insediamenti industriali, per il lavoro, per permettere appunto di poter fare nuove imprese e nuove attività. Perché il lavoro e la ricchezza non si generano per decreto, ma si generano quando c'è un'amministrazione attenta alle esigenze del territorio e le mette in condizioni di poterlo sviluppare. Quanto ai giovani, noi abbiamo una delle migliori gioventù d'Italia, siamo orgogliosi di questo. I giovani abruzzesi studiano, si laureano e si specializzano anche al di sopra della media nazionale, ma poi spendono i loro talenti fuori di qui, se ne vanno, perché non trovano il terreno fertile. E su questo bisogna anche migliorare il rapporto tra l'università e il mondo del lavoro, che sì esiste ma deve essere migliorato perché ne ho sentite troppe di aziende che dicono che cercavamo giovani specializzati e formati, ma non li abbiamo trovati qui perché a volte il sistema di istruzione e soprattutto quello di formazione post-universitaria è ancora insufficiente o comunque non dialoga con il mondo del lavoro. Sara Marcozzi. Allora io non vi racconterò quello che farò, ma quello che ha già fatto il Movimento 5 Stelle. Ieri la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha varato finalmente il decreto di attuazione del reddito di cittadinanza, dell'aumento delle pensioni a 780 euro e di quota 100. Perché vi dico questo? Perché questa lotta che abbiamo ingaggiato contro la povertà e contro le pensioni minime indegne, perché questo è il paese delle pensioni d'oro da 90 mila euro al mese e delle pensioni minime a 3-400 euro. Il governo del Movimento 5 Stelle è il primo che mette mano finalmente alla lotta alla povertà, visto che negli ultimi 5 anni i poveri nella nostra regione sono cresciuti e in Italia si è arrivati a un livello straordinario da un milione di poveri a 5 milioni. Perché questo incide nelle politiche del governo regionale di quello che sarà il governo del Movimento 5 Stelle? Perché contrastando la povertà si libereranno tutte quelle risorse dei fondi europei che sono dedicate all'inclusione sociale e al contrasto della povertà. Risorse che andranno ad integrare quelle altre risorse dedicate già all'impresa, a tutte quelle agevolazioni per le imprese di cui ho parlato prima. Come si fa però? Perché qua tutti parlano di faremo, faremo, faremo. La verità è che gli uffici regionali, i dipartimenti regionali sono sotto organico. I dipartimenti in particolare che si occupano di europrogettazione e di programmazione europea hanno ancora oggi posti vacanti dopo 5 anni di fatto di legislatura. Questo perché sempre per il fatto che siccome non si è raggiunta e l'assessore Paolucci non ha raggiunto la parifica da parte della Corte dei Conti del bilancio c'è il blocco delle assunzioni, molto semplicemente. Stessa cosa vale per il PSR e i fondi per l'agricoltura. L'assessore Pepe è uno degli assessori più criticati perché insomma il PSR, gli agricoltori, gli imprenditori agricoli criticano appunto lo stesso meccanismo, cioè spesa ferma al 10%, erogazione di fondi a pioggia, totale mancanza di programmazione. Sia l'assessore Paolucci che l'assessore Pepe si ricandidano con lo schieramento di centrosinistra, non lo so con quali propositi, cioè di porre rimedio a quello che hanno fatto negli ultimi 5 anni. Dunque quello che dobbiamo fare è la riorganizzazione degli uffici, la creazione di un ufficio dedicato all'europrogettazione che possa essere di supporto oltre che alle imprese e anche ai sindaci. Sanità e liste d'attesa stesso discorso, qual è il problema delle liste d'attesa? Che non c'è una dotazione tecnica informatica sufficiente, dunque bisogna investire in questo e bisogna investire in personale, cioè bisogna assumere le persone, cosa che non è ancora possibile sempre per quel problema sul bilancio. E poi voglio spendere una parola per l'edilizia sanitaria, questo governo regionale si è sbracciato per promuovere i project financing che costano di più, ci sono invece, perché noi ci siamo già recati al Ministero della Salute, abbiamo reperito le risorse, c'è il direttore generale della programmazione, ci siamo confrontati con lui, abbiamo visto che solo per l'Abruzzo ci sono 400 milioni di euro sul Fondo Nazionale per l'edilizia sanitaria, quasi 500 milioni di euro sul Fondo Inail, la possibilità di accedere alla Bay, la possibilità di accedere a Cassa Depositi e Prestiti chiudo, quindi i project financing non servono, avvantaggiano solo le speculazioni. Certo, abbiamo introdotto, partendo dal lavoro, anche il tema della sanità che credo probabilmente sarà oggetto di un ulteriore approfondimento tra poco, ma ora dobbiamo dare la linea alla regia e si riprenderà, appunto credo proprio su questo tema, tra poco. Bene, siamo tornati in studio, dobbiamo un po' accelerare, quindi a questa domanda la risposta sarà contenuta nei due minuti, però credo che sia una sorta di appendice del tema che avevamo ascoltato in passato e in precedenza, da alcuni spunti sulle risposte dei candidati, so che Lorenzo voleva entrare in un merito specifico. Si è parlato finora anche molto di sanità e di questa sorta di premere un tasto rewind per tornare indietro cancellando il decreto Lorenzini, ma c'è una sanità particolare che è quella diffusa nel territorio, quella che entra nelle case e che permette di non andare a finire negli ospedali o sulle barelle. La sanità più familiare, che cosa intendete fare per migliorare la sanità del territorio? Del territorio, ecco. Iniziamo da Marsiglio. Beh, intanto diciamo farla esistere, perché è quella che oggi non c'è e quindi porta tutti ad andare poi nel grande ospedale, negli unici che magari funzionano o tentano di funzionare grazie allo sforzo enorme dei primari, dei medici che si danno da fare, ma che non sono messi nella condizione di offrire un servizio, perché è chiaro che se la proposta, la richiesta, la presenza aumenta sempre di più, si ingolfano e poi si vive il disagio che abbiamo visto e raccontato. Bisogna quindi ripartire intanto dai presidi esistenti che sono stati impoveriti, depauperati, a volte completamente chiusi, senza offrire alcuna alternativa. Potenziare quindi i servizi H24 di guardia medica, di presidio territoriale, di ambulatori. Su questo bisogna anche mettere in rete la straordinaria presenza ramificata delle farmacie che oggi sono completamente tagliate fuori da un sistema sanitario integrato che deve invece vedere anche le farmacie e i farmacisti come un presidio territoriale importante che può servire e deve servire. Purtroppo non succede e questo invece lo faremo anche per fare le prenotazioni, per fare una prima selezione a monte della diagnostica, perché spesso gli ospedali e le strutture sanitarie si ingolfano e costano molto perché si fanno analisi che magari non sarebbero servite se ci fosse stata una selezione a monte della qualità, della congruità degli interventi richiesti e su questo ci vuole un coinvolgimento importante dei medici, dei medici di base da valorizzare nel loro ruolo con i quali dobbiamo lavorare insieme per capire come meglio organizzare questa sanità nella regione Abruzzo. Bene, 14 secondi di credito. Allora, Stefano Flaiani. Allora sì, riagganciandomi a quello che ho detto prima che Casa Pound ha lavorato sul territorio ancora prima di essere una formazione politica, con le varie associazioni con cui collaboriamo ambientaliste e anche di medici, c'è un gruppo di medici, una associazione di medici con cui collaboriamo che ci hanno fornito già una serie di primi punti da poter intervenire come regione all'interno della sanità. Alcuni punti sono comuni perché d'altronde anche le soluzioni tante volte sono comuni, però ecco le chiusure previste dei precedenti amministrazioni regionali, scusate, io la vedo là cittadino, va bene che qui sono in vestito di candidato, però qua abbiamo compagini di governo che per me, se io fossi al posto loro avrei già richiesto, almeno non dico ottenuto, ma richiesto e combattuto per l'estromissione di questo decreto Lorenziani, di questi centri di nascita, di questi presidi sanitari prontosi a corso, che sono tutte attività e anche difficili da rifare. Io leggo le proposte che ci hanno dato proprio questi medici, cioè persone che vivono quella professione, strutture ospedaliere e vetuste insostenibili, dal punto di vista economico, per i costi di maturazione devono essere ricostruite ex novo, lanciare un progetto di visite specialistiche gratuite, poi d'altronde è quello che facciamo noi in collaborazione con questo gruppo di medici, la commissione permanente per un controllo dell'operato e dei direttori sanitari, un potenziare lo studio e la ricerca di tecniche e le riabilitazioni per la terza età, perché purtroppo è vero che dobbiamo cercare di riportare i giovani in Abruzzo e di evitare che si allontanino, però è anche vero che la popolazione si sta invecchiando e quindi devi dare una possibilità anche a chi è nella terza età di usufruire sia di screening che di assistenza. Le nuove dipendenze, le vecchie dipendenze, purtroppo è un'altra problematica, dove c'è disperazione, dove c'è emergenza sociale, purtroppo abbiamo anche queste realtà, tante famiglie si rivolgono a noi perché hanno problematiche in famiglia proprio di questa cosa qui, e tante ASL non sono in grado purtroppo di andare ad aiutare né queste famiglie né queste persone che hanno queste patologie, queste dipendenze, e comunque di cancellare tutto questo progetto di sanità privata, di fomentare questa sanità privata per tornare a una sanità pubblica decente ed eccellente come lo era prima. Sara Marcotti Dunque, intanto io voglio chiarire, le risorse non è che non ci sono, perché anche quest'altra narrazione del non ci sono i soldi a me un po' fa indispettire, perché i soldi ci sono, il problema è che vengono impiegati male. In dieci anni il governo di centrodestra, di Chiodi, il governo di centrosinistra hanno chiuso cinque ospedali a testa. Di fatto li hanno chiusi perché non c'erano i soldi, ma hanno attuato dei tagli lineari. Quello che non si è fatto sono stati dei tagli scientifici agli sprechi. Faccio un esempio che mi piace fare sempre. Ospedale di Pescara, PET-TAC, noleggiata a 6.000 euro al giorno. Una PET-TAC costa un milione di euro, per dieci anni di noleggio probabilmente ne avremmo comprate sei o sette. Spesa farmaceutica, insomma ci sono tanti tagli che possono essere effettuati, che possono dirottare le risorse a non chiudere i presidi, a potenziare la medicina del territorio, ad acquistare più ambulanze, a riconvertire presidi, ad esempio oggi depotenziati, per curare le cronicità ed evitare che si affollino gli ospedali invece che curano le acuzie, eccetera. Tante cose si possono fare. Io voglio spendere questi ultimi 50 secondi per parlare di cooperative e di esternalizzazioni. Noi in tutti gli ospedali che abbiamo visitato abbiamo potuto constatare negli ultimi 5 anni il dramma dei lavoratori che lavorano per le società cooperative di tutti quei servizi che sono stati esternalizzati in nome del risparmio della spesa, in realtà si spende molto di più con le esternalizzazioni, la qualità del servizio è peggiorata, la qualità delle condizioni di lavoro dei lavoratori è peggiorata. Io ho incontrato lavoratori con orari part time da 7-11 ore che percepiscono delle buste paga da 300-400 euro al mese. È una vergogna per lavorare un'ora la mattina e un'ora la sera. Parlo delle mense, delle cucine, degli os, in certi casi. Il nostro piano è quello di progressivamente porre il rimedio a questo grande danno, tornare indietro e re-internalizzare tutti questi servizi per offrire servizi migliori e le condizioni di lavoro migliori. Legnini. Dieci secondi per una breve replica al senatore Marsilio e poi rispondo alla domanda. La ricostruzione post-sisma 2016-17, condivido, occorre personale, più personale, occorre modificare le ordinanze, pesnelli le procedure. Questo dipende per larga parte dal governo nazionale. Ieri i presidenti delle regioni si sono riuniti con il governo. Mi auguro che vi si provveda al più presto perché non è tollerabile che migliaia di famiglie siano ancora fuori casa. La sanità. Noi partiamo e dobbiamo parlare il linguaggio della verità sulla sanità come su altro. Noi partiamo da due risultati importanti di questi anni. Siamo usciti dal commissariamento e stiamo per uscire dal piano di rientro. Grazie al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza abbiamo più risorse, una premialità nelle risorse e abbiamo anche le risorse sull'edilizia sanitaria, su questo ha ragione la consigliera Marcozzi, che ci consentiranno di rivedere i progetti di finanza e io mi impegno a rivedere tutte le procedure, riesaminarle alla luce del nuovo quadro finanziario. Che cosa dobbiamo fare nel futuro? Certo riorganizzare la rete ospedaliere, ma bisogna fare la grande operazione a cui si riferiva la domanda di Lorenzo Colantonio, e cioè tutto ciò che è trasferibile a domicilio, cure domiciliari integrate con la social assistenza, tutto ciò che è trasferibile in prossimità del luogo di vita del malato, in particolare degli anziani, deve essere fatto valorizzando la rete dei medici di famiglia, valorizzando la rete delle farmacie, riorganizzando in questa chiave i piccoli ospedali. Adesso si può fare anche con nuove assunzioni, prima avevamo il cappio a collo del commissariamento derivante dall'esplosione dei debiti che si verificò in particolare durante gli anni di governo del centro-destra nel 2000-2005. Ultimi tre minuti a testa, ultimi fuochi Lorenzo, accendiamoli. Un po' di ripeto, la più minuscola però, e allora chiedo a ciascuno di voi chi teme di più e chi teme di meno degli avversari. Marcozzi arriva. Beh, io temo che il governo di questa regione sia riconsegnato ad una mega coalizione frutto di, passatemelo il termine, una cozzaglia di interessi diversi, programmi diversi, come posso dire, obiettivi diversi. Abbiamo visto negli ultimi cinque anni il governo del presidente D'Alfonso sotto ricatto di fatto proprio da queste coalizioni, cioè singoli consiglieri che sotto ricatto lo ha ricordato tra l'altro il presidente Lolli negli ultimi giorni dell'approvazione del bilancio che era in trattativa con uno o più consiglieri per farli rientrare in consiglio regionale a votare il bilancio. Questo è il risultato del voto alle grandi coalizioni. Grandi coalizioni che abusano della democrazia e che, come posso dire, raccontano ai cittadini di questa grande partecipazione straordinaria, del fatto che i cittadini possono votare per chiunque tra i 200-300 candidati che si presentano. Non raccontano però ai cittadini che molto spesso e troppo spesso tutti questi candidati non verranno mai eletti e lo abbiamo visto, sono portatori sani di voti per eleggere i soliti noti e quindi faccio per dire la coalizione di centrosinistra, ma giusto perché è il governo uscente, si ricandidano tutti gli assessori e tutta la maggioranza, per cui è evidente che i nuovi prenderanno evidentemente meno voti di loro, però potrebbero contribuire a far rieleggere sempre gli stessi. Stesso discorso vale per il centrodestra, cioè una coalizione che è partita con mille difficoltà, che ha avuto la prima difficoltà il giorno di presentazione della lista perché il candidato Marsilio non era a conoscenza di due candidati inseriti nella propria lista, io mi domando come possa guidare una regione, un candidato presidente che non sa neanche chi si candida con lui. L'unica cosa che mi fa paura dunque è questo, ma andando in giro negli ultimi cinque anni io ho visto gli abruzzesi sempre più convinti che l'unico cambiamento sia quello del Movimento 5 Stelle. La Lega ha scelto di concorrere a queste elezioni regionali con Berlusconi e con Fratelli d'Italia, è evidente che l'unica forma di discontinuità con il passato è il Movimento 5 Stelle e io chiedo ai cittadini abruzzesi di darci fiducia non per quello che oggi diciamo che faremo, ma per quello che abbiamo già fatto, per quello che abbiamo fatto al Governo nazionale, abbiamo combattuto per cinque anni, abbiamo marciato addirittura per l'istituzione del reddito di cittadinanza e nella prima occasione utile cioè al primo bilancio che ci siamo trovati ad approvare lo abbiamo fatto. Il reddito di cittadinanza e le pensioni minime a 780 euro partiranno ad aprile, i primi di aprile quindi chiedo agli abruzzesi di giudicarci per quello che abbiamo già fatto. Stessa cosa in Regione, avevamo detto che ci saremmo tagliati gli stipendi per fare tante cose, purtroppo eravamo all'opposizione e non potevamo fare di più, anche se abbiamo chiesto anche agli altri con una proposta di legge di tagliarsi lo stipendio, ma non lo hanno voluto fare, per cui l'unica vera forma di discontinuità è un Governo che non ha mai governato, fatto di professionisti che non sono mai stati al Governo, che non hanno contribuito a causare i problemi che ci sono. Oggi sia lo schieramento, ho finito, sia lo schieramento di centrodestra che di centrosinistra si propone come soluzione di problemi che loro stessi hanno contribuito a causare. Marsilio, chi teme di più tra i rivali era la domanda, giusto? Ma per certi potrei rispondere che non temo nessuno e temo tutti, nel senso che rispetto ogni avversario e penso che le partite vadano giocate fino in fondo, che il consenso degli abruzzesi, dei cittadini, degli elettori debba essere guadagnato giorno dopo giorno. Quindi io sono anzi contento se dalle forze politiche che si propongono emergano proposte importanti, serie, sulle quali potremo discutere e quando avrò l'occasione di poter governare la Regione Abruzzo spero che dall'opposizione arriveranno sempre proposte costruttive e con la volontà di portare qualcosa di buono alla nostra Regione. E spero anche che i ministri del Movimento 5 Stelle che oggi siedono al Governo, non so per quanto ancora, comunque stiano vicini all'Abruzzo. Se il Ministro Grillo darà centinaia di milioni, se non miliardi, all'Abruzzo per costruire nuovi ospedali, costruiremo nuovi ospedali anche con il concorso del Governo. Voglio sperare che il Ministro Buonafede non chiuderà i tribunali, però ha annunciato il contrario, mi dispiace dirlo alla consigliera Marcozzi, perché in Parlamento il Ministro Buonafede ha annunciato che vorrà fare sportelli di prossimità e non tribunali aperti. Ma se tutto l'Abruzzo andrà a combattere a Roma per chiedere l'apertura dei tribunali, io spero di avere al mio fianco non solo Sara Marcozzi, ma anche Giovanni Legnini, Casa Pound, tutte le forze politiche e sociali del territorio per difendere l'Abruzzo. È con questo spirito che voglio affrontare il Governo della Regione Abruzzo. Parlerò di questo, di tanti altri progetti, perché i pochi minuti a disposizione in questa trasmissione non consentono di sviluppare tutti i ragionamenti. domenica mattina al porto turistico di Pescara alle 10.30 in una grande manifestazione, colgo l'occasione per invitare tutti. E soprattutto quello che temo è, come dire, da un lato la continuità, come dire, abbiamo già dato, abbiamo già visto in questi cinque anni che cosa il Governo del Partito Democratico ha saputo fare o peggio non fare per la Regione Abruzzo. E c'è una forte ansia di cambiamento, sono i cittadini abruzzesi che temono questa continuità e che vogliono il cambiamento. Ma il cambiamento vero è quello di chi sa governare, di chi ha già dimostrato di saper governare. Ci sono tante regioni in Italia che sono governate ormai da decenni, dal centro-destra, da questa formula di governo che mette insieme culture politiche e sensibilità diverse, ma accomunate da una cornice di valori, di ideali, di riferimenti, di categorie sociali che è comune. E quindi la cultura liberale, popolare, cattolica, nazionale, federale, autonomista, messa insieme, fornisce alle regioni più sviluppate e più ricche d'Italia un buon governo che i cittadini hanno premiato e continuano a premiare da decenni. Vogliamo replicare questa esperienza e quando il centro-destra ha governato con il governo Chiodi, ricordo che nella sanità c'era qualcuno che faceva, prima di Chiodi, si faceva pagare a piedi lista e senza budget e questo governo regionale di centrodestra affrontò coraggiosamente anche quei poteri forti che avevano messo in ginocchio la sanità abruzzese. Purtroppo qualcuno che ha sostituito il governo Chiodi non è stato all'altezza di quelle capacità e di quella esperienza e dall'opposizione il centro-destra ha continuato a difendere in questi anni i cittadini abruzzesi presentando una squadra credibile per poter governare la nuova fase, la nuova stagione. Grazie. Legnini, rispetto ai timori... Non c'è da temere su nulla e nessuno. Io mi confronterò con i miei competitori con la correttezza, lo stile ai quali mi sono sempre ispirato evitando cadute di stile che pure qui e lì registro. Consiglierei, anzi chiedo alla consigliere Marcozzi di evitare di fare apprezzamenti negativi su una squadra quella che compone le mie otto liste, sette liste civiche più quella del Partito Democratico, fatta di personalità, di altissimo spessore, espressione della società civile, espressione del mondo del lavoro, dell'impresa, delle professioni, della cultura, della scuola. Queste persone si candidano per essere elette, meritano rispetto, a me danno forza, hanno commosso perché ho registrato una partecipazione straordinaria, il 40, oltre il 40%, il 43 è costituito da giovani, under 40, 8 ventenni, il 44% è costituito da donne, tutti meritano di competere, di essere rispettati e di non essere apprezzati come una cozzaglia, come diceva la consigliere Marcozzi, che predilige guardare al passato. Io ho chiesto a queste persone di candidarsi per guardare al futuro, per costruire un futuro per questa nostra regione, fatta di partecipazione, di trasparenza, di legalità, i principi ai quali io mi sono sempre ispirati, fatta di un progetto politico innovativo, il cui perimetro ho tracciato con estrema precisione quello che si richiama ai principi e ai valori della Costituzione, delle carte fondamentali e fondative dell'Unione Europea, dello statuto della nostra regione, quel progetto politico che costituisce la risultanza non di ammucchiate, ma della confluenza dei democratici, dei cattolici, dei progressisti, di espressioni, di competenze, esperienze della società civile. Questa è la novità. Ora, io capisco che si fa fatica, che si continua a parlare del passato, di questo, di quest'altro e di quest'altro. Ma certo, i consiglieri uscendi che hanno inteso ricandidarsi, sono pienamente legittimati a ricandidarsi, si sottoposcono al giudizio elettorale, hanno fatto un lavoro, un lavoro importante, di cui daranno conto agli elettori. Io guardo al futuro e mi faccio portatore di un progetto nuovo per il futuro. Lei guarda al passato. Flaiani, allora, chi deve temere di questi tre più degli altri oppure tutti e tre insieme magari? Ma qui non si tratta di temere o non temere, qui si tratta di andare a fare una valutazione, cioè l'elettore deve fare questa valutazione. Oltre alla personalità, alle specificità, pregi e difetti di ognuno di noi candidati alla Presidenza, si deve andare a guardare alla formazione politica. A chi compone queste compagini politiche? Casa Pound ha oltre 140 sedi in tutta Italia, perennemente aperte. Ha 9 sedi in Abruzzo, perennemente aperte. Fa politica vera, reale, anche se non elettiva, da 13 anni, per strada, insieme alle persone, con le persone. Siamo stati anche arrestati perché si siamo frapposti per la difesa e la tutela dei cittadini italiani. Questo è Casa Pound, al di là del fango che ci hanno buttato addosso con i giornali, perché quando siamo stati aggrediti perché avevamo un banchetto formalmente autorizzato e la Digos non è intervenuta in tempo, i giornali hanno titolato Casa Pound, scontro in piazza. Io sono una vittima, sapete perché lo scontro in piazza? Perché noi siamo rimasti lì a difendere il nostro diritto, oltre a difendere le nostre persone, il nostro materiale, a difendere il nostro diritto come ogni giorno scendiamo in strada o presso le pubbliche amministrazioni a difendere i diritti di tutti quei cittadini italiani che si sono presentati e ci chiedono aiuto perché abbandonati dalle istituzioni. Noi abbiamo delle liste in tutte le province fatte di persone, persone che lavorano, persone che sono disoccupate, mamme di famiglia, fondamentalmente perché quello è Casa Pound. L'elettore già il 4 marzo ha dimostrato che non è più la pecora che va dietro al pastore, perché ha fatto un voto radicale, un voto di cambiamento, per quanto si è fatto abbagliare dal cosiddetto voto utile, ma noi lo dicevamo, guardate non vi fate abbagliare, perché dopo no, vi scriveremo, ve lo avevamo detto, ve lo avevamo detto e tanto sta accadendo. Purtroppo ancora oggi noi siamo contenti, anzi anche io personalmente sono contento che molte compagini politiche stanno riprendendo dai nostri punti di programma dalle elezioni politiche. Il problema fondamentale qual è? È che o manca il coraggio o manca la volontà, io questo non lo so, ma la realtà oggettiva che oltre ai proclama, vabbè che se le coprano, però oltre al proclama nessuno compie, nessuno fa questi progetti. Noi abbiamo il mutuo sociale, alcune compagini per l'acquisto della prima casa, alcune compagini politiche, lo dicono anche loro, ma poi negli anni in cui hanno governato in tutti i livelli non lo hanno mai portato avanti. Se parlate, se sono fatte anche le battute, per me è anche un po' particolare, le caravere che devono passare su nazionalizzazione, chi che dice il giorno prima sì deve essere fatto, poi il giorno dopo perché interviene il braccio destro e gli dice no, non si può fare più. Questi che vengono a fare le passerelle, e ripeto, l'ho accennato pure prima, a me fa piacere che venite a visitare la terra dell'Abruzzo, anzi se magari fate lavorare un po' anche le attività commerciali, io sono anche più contento, specie anche quelle turistiche, purtroppo adesso come preditivo ancora non funziona, ma portateci un regalino, no? Come tutti, portateci una nazionalizzazione, portateci una rete viaria migliore, portateci magari un decreto che ci esclude la chiusura sia dei tribunali, ecco, allora lì sarete più credibili come politici, oggi fate solo passarelle e domani sarà la stessa cosa. Grazie, grazie, allora Lorenzo siamo alla chiusura di questa prima tribuna, ne faremo un'altra, ovviamente non saremo qui tutte le settimane, ovviamente loro ci assicureranno un'ulteriore presenza probabilmente ad una settimana dalla conclusione della campagna elettorale, ma ti chiedo a te soltanto proprio 30 secondi di telegramma, di commento a questa fase della campagna elettorale, insomma si stanno cominciando a delineare i temi, dello scontro, del confronto. Guarda, ti valorizzo e ti dirò di più, puoi vantare da oggi un primato perché per la prima volta i quattro candidati si sono potuti confrontare e possiamo dire che da questo momento parte la campagna elettorale. Ci sono le liste pronte, la Corte d'Appello le ha stampate, c'è un ricorso di Casa Pound da verificare per Pescara e comunque abbiamo aperto anche il nostro ciclo di tribune sui candidati presidenti, vi dicevo tra un paio di settimane torneranno, poi li riavremo soltanto per gli appelli finali a poche ore dalla apertura delle urne. Grazie a tutti e quattro, grazie ai nostri telespettatori, arrivederci. Grazie a tutti i nostri telespettatori, arrivederci a tutti i nostri telespettatori,